E' stata tumulata questa mattina presso il cimitero di Cartecchio a Teramo, Franca d'Agostino. La donna trovata lo scorso 21 luglio in avanzato stato di decomposizione all'interno della sua abitazione di Via Arno, ad un mese di distanza dal decesso. La donna era stata nascosta e tenuta in casa dalla figlia Sara, che ora è ricoverata nel reparto di psichiatria Giulianova. Viste le precarie condizioni economiche della vittima e della figlia che risulta nulla tenente, il comune di Teramo ha deciso di farsi carico delle spese della cerimonia funebre. La magistratura ha concesso il nulla osta per la cerimonia dopo l'autopsia e le verifiche sul caso. Per ragioni sanitarie, a causa delle alte temperature, non è stato possibile svolgere i funerali. Il parroco si è limitato al momento di preghiere e di benedizione prima della tumulazione. Alla cerimonia sarebbe dovuta essere presente anche la figlia. Infatti il comune di Teramo, in accordo con il centro di salute mentale, aveva predisposto il dovuto supporto per permettere la sua presenza, ma la stessa ha deciso di rifiutare. Presenti gli assistenti sociali e la vice sindaca Stefania Di Padova, che sin dalle fasi iniziali ha preso a cuore la vicenda. Si chiude così una brutta pagina di cronaca della città di Teramo, in attesa che la giustizia accerti le responsabilità. Sara D'Agostino ora dovrà rispondere all'accusa di occultamento di cadavere, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie a tutti.